Il treno regionale veloce delle ore 10 e 12 per Venezia Santa Lucia è in parlezza dal Trinario 10. L'autobus sostitutivo di 0401 i treni d'Italia vive delle ore 10 e 10 per prato centrale è previsto in partenza dal punto di fermata. Il treno regionale veloce delle ore 10 e 10 per l'autobus sostitutivo di 0401 i treni d'Italia proveniente da Napoli centrale e diretto a Venezia Santa Lucia. Il treno regionale veloce delle ore 10 e 10 per l'autobus sostitutivo di 0401 i treni d'Italia owing 수�candata giorietà ma imposta impostosIchapazolino Oastobus sostitutsi Pub Genius Immagini Prend fork Il treno regionale Vare e I I I I Grazie.